Sono tante le vittime inconsapevoli. La violenza di genere non si concretizza solo attraverso l'abuso fisico, ma anche e soprattutto con la manipolazione psicologica. Rivolgetevi e affidatevi alla stazione Carabinieri più vicina per ricevere aiuto. La consapevolezza è il primo passo per sfuggire alla violenza. Nell'ambito del progetto denominato Una stanza tutta per sé, il Comando Provinciale di Catania e Soroptimist International Italia hanno inaugurato una seconda stanza dedicata all'accoglienza e all'ascolto delle donne vittime di violenza. Non bisogna restare indifferenti. La violenza non è amore. Vinciamo le difficoltà. Liberiamoci dagli abusi e dalle costrizioni. Con coraggio denunciamo. Il Codice Rosso è una tutela. Con coraggio denunciamo. Il Codice Rosso è una tutela.